Buongiorno a tutti, sono Cristian Manin Vermi, Presidente dei Ristoratori di Confortigianato per la provincia di Vicenza. Volevo fare alcune riflessioni con voi a seguito dell'ordinanza del 4 maggio scorso della Regione Veneto, che trucca in due punti il nostro mondo. Il primo positivo sicuramente, ovvero togliere l'obbligo della prenotazione online. Era assurdo veramente ordinare mezz'ora prima via mail un caffè. Sul secondo invece, ahimè, il giudizio è negativo. L'apertura dei nostri ristoranti per le imprese di urne, con una serie di balzelli e di regole di umbilitazioni che renderanno praticamente quasi impossibile l'apertura della nostra attività. Siamo chiusi ormai da più di due mesi. Il mondo della ristorazione e il mondo del turismo rappresentano il 15% del PIB nazionale, in Veneto ancora di più. Quello che chiediamo alle istituzioni sono regole certe e applicabili. Chiediamo protocolli seri, mirati, ma che ci diano la possibilità di riaprire finalmente. Altrimenti saremo costretti sicuramente a lasciare a casa molti dei nostri collaboratori, che sono la spina dorsale delle nostre attività. Già il metro di distanza renderà difficile l'apertura di molte nostre attività. Quindi, per cortesia, a voi istituzioni, dateci la possibilità di riaprire concretamente.